Buonasera e bentrovati con l'edizione domenicale di Caroti G. Come di consueto vediamo le principali notizie di giornata dal nostro sito newsrimmini.it. Apriamo con la cronaca. Aggressione domestica punta il coltello contro la sorella e i tre nipoti minorenni, interviene la polizia e lo arresta. L'ennesima richiesta di soldi, il rifiuto e infine il raptus. Momenti di tensione, l'altro ieri verso le 8 di mattina, in un appartamento in centro storico a Rimini, dove una donna di 34 anni è corse in strada insieme ai suoi tre figli minori di 12, 11 e 4 anni per mettersi al riparo dalla reazione incontrollata del fratello, un ragazzo di 26 anni che qualche attimo prima aveva minacciato di morte lei e i tre nipoti puntando contro di loro un coltello da cucina. Un gesto che il giovane aveva ripetuto nei confronti della sola sorella qualche giorno prima. La donna, uscita dall'abitazione con i tre figli, ha chiamato in stato di shock la polizia di Stato. All'arrivo delle volanti, il giovane era ancora in casa davanti agli agenti, ha ammesso di aver perso il controllo a causa del rifiuto della sorella di dargli soldi per l'acquisto delle sigarette. Una volta al sicuro, però, la 34enne ha raccontato di aver subito più di un'aggressione nell'ultimo periodo, avvenute tutte quando il marito non era in casa. Al termine degli accertamenti, il 26enne è stato arrestato in flagranza per atti persecutori aggravati e minacce aggravate. Il pubblico ministero ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere. Torniamo ora nella nostra home page di newsrimmini.it, andiamo a leggere un'altra notizia. Spaccate col tombino, questa volta il ladro finisce in manette. Due colpi nella notte, altre due spaccate a Rimini, entrambe nella zona sud, solo che questa volta il ladro è finito in manette. Arrestato dai carabinieri, i due colpi compiuti con un tombino utilizzato per infrangere le vetrate, sono avvenuti in Viale Catania Riva Azzurra ai danni di un minimarket e di un emporio a Marebello. Nel primo caso la spaccata non è riuscita, nel secondo invece sì. Il ladro però, prima di far perdere le proprie tracce con i contanti arraffati dal fondo cassa, si è visto circondato dai militari dell'arma che l'hanno subito bloccato. Per lui è scattato l'arresto in flagranza e domani comparerà in tribunale per la direttissima. Sull'uomo sono in corso inoltre accertamenti da parte dell'arma, che sta verificando se sia sempre lui l'autore delle precedenti spaccate avvenute nella zona sud, in particolare a Riva Azzurra. Torniamo ora sul nostro sito e andiamo a leggere un'altra notizia di cronaca, questa volta avvenuta sempre nella notte ma in centro storico. Scazzottata e lancio di bicchieri tra giovani, un ferito lieve, una scazzottata tra giovani nordafricani, forse tra bande rivali, e andate in scena nella notte a Rimini in centro storico. I due gruppetti si sono affrontati prima a mani nude nei pressi della vecchia pescheria, poi si sono spostate all'incrocio tra via Carlo Pisacane e via Cairoli, dove sarebbero volati alcuni bicchieri di vetro prima del fuggi-fuggi generale. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che ha notato un ragazzo dolorante a terra. Il giovane, che ha riportato ferite lievi, non avrebbe però fornito indicazioni utili su quanto accaduto. Chiusa la pagina della cronaca, torna la prossima settimana il Banco Farmaceutico per raccogliere medicinali in favore di chi è in difficoltà. Tante le farmacie aderenti in provincia di Rimini. Vediamo. L'aumento del disagio economico porta all'aumento della povertà sanitaria. Sono 5.600 le farmacie in Italia che partecipano al Banco Farmaceutico in programma dal 6 al 12 febbraio, una cinquantina quelle in provincia di Rimini, riconoscibili dalla Locandina e consultabili sul sito bancofarmaceutico.org. Ai cittadini è chiesto di donare soprattutto anti-influenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.900 realtà che si prendono cura di 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato da queste realtà al Banco Farmaceutico supera il milione di confezioni di medicinali. Nel 2023 sono state raccolte 598.000 confezioni per un valore di oltre 5 milioni di euro. 25.000 i volontari impegnati su tutto il territorio nazionale. Ora una notizia più leggera perché Romagna mia compie 70 anni e verrà celebrata a Sanremo. Leggiamo la notizia dal nostro sito. La ministra Daniela Santanchè, oggi dopo aver inaugurato la 44esima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene a Milano, di passaggio allo stand dell'Emilia Romagna nel corso della sua visita, ha ricevuto incorniciata e con i saluti della figlia di secondo Casa Dei Riccarda, la copia del manoscritto originale di Romagna mia in occasione di 70 anni della canzone. Il brano immortale del maestro secondo Casa Dei, datato 1954, che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie al successo nazionale ottenuto da Raul Casa Dei, risuonerà mercoledì 7 febbraio a Sanremo, dove salirà sul palco dell'Ariston Mirko Casa Dei con la sua orchestra. Ora apriamo invece l'ampia pagina di sport, partendo dal calcio. Il Rimini stoppa 4 la serie di vittorie del Perugia, e allunga 4 invece la sua striscia positiva in campionato, 5 considerando anche la semifinale d'andata di Coppa Italia. Al Renato Curi il terzo confronto stragionale con gli Umbri finisce 0-0 il servizio. Perugia e Rimini si ritrovano faccia a faccia per la terza volta in questa stagione. Gli Umbri sono terzi con 42 punti e hanno vinto le ultime quattro gare giocate. Troise non può contare su Capanni e sui acquisti Quacquarelli e Oddi. Non ce la fanno Morra e Pietrangeli. Al centro della difesa Gorelli, tiro d'attacco ma la grida la mesta Cernigoi. La partita, al quarto cross insidioso di Iannoni, Gorelli spazza l'area. Al sesto traversone di la mesta, Cernigoi ci mette la testa, ma riesce solo a spizzare il pallone che finisce a fondo campo. All'ottavo Cernigoi serve Marchesi, contratto al momento del tiro da Dell'Orco. Al ventiquattresimo cross ed Elisi per l'incornata di Silla. Colombi si salva con un grande intervento. Al ventiseiesimo punizione per il Perugia dal limite dell'area, batte Elisi sulla barriera. Ci riprova pallone a fondo campo. Al quarantesimo, sugli sviluppi di un corner, Meghelaitis va alla battuta, ma non trova lo specchio. Al secondo della ripresa, cross ed Elisi, colpo di testa di Iannoni, sfera lato. Al decimo è provvidenziale l'intervento di Semerario in anticipo su Paz, sull'ennesimo cross dall'auto di sinistra dell'attacco locale. Al dodicesimo cross di Lewis, Silla, disturbato da Meghelaitis, non riesce a colpire di testa. Lisi recupera il pallone, va al controtraversone, Juan gira lato. Al sedicesimo, Seghetti entra in area con un'accelerazione al centro. Colombi si salva di piede, Iannoni ruba palla all'angella, gighi calcia, Iannoni tocca, sfera tra le braccia di Colombi. Al diciannovesimo, Malagrida, servito in verticale, va la battuta, deviata in angolo da Lewis. Dalla bandierina la mesta, Lepri alza il pallone a campanile, Adamonis lo recupera. Al ventiduesimo, Juan per Seghetti, che spara alto da ottima posizione, ma è in fuorigioco. Al ventottesimo, Iannoni calcia dal limite dell'area, pallone altissimo. Una manciata di secondi dopo ci prova Seghetti, la sfera sorvola la traversa. Al trentesimo, crosse di Semeraro, Cernigoi stacca ma non ci arriva. Al quarantesimo, sugli sviluppi di un corner, Dell'Orco rimette al centro, Angela sfiora di testa, nessun problema per Colombi. Al cinquantesimo, Leoncini per Ubaldi, che si sistema il pallone sul destro e calcia. Conclusione da dimenticare. Finisce 0-0, si ferma a 4 la striscia di vittoria degli Umbri. Quarto risultato utile di file in campionato per i Romagnoli, che salgono a 29 punti in classifica. E' venerdì sera il derby con la capolista Cesena. E sono due punti importanti, quelli conquistati nelle ultime due trasferte in casa di Juventus, Next Gen e Perugia, secondo il tecnico del Rimini, Emanuele Troise. Sentiamo il suo commento a caldo. Abbiamo disputato una partita importante, considerando il buon momento del Perugia e di come ha cambiato pelle nella gestione Formisano, perché è diventata una squadra veramente dai ritmi alti, di alta intensità, sia con palla che senza palla. Abbiamo avuto la capacità di reggere il confronto. Chiaramente ci sono state delle situazioni importanti per loro, ma anche noi abbiamo provato ad impensierirli. Diverse volte siamo arrivati nell'ultimo quarto, dove poi ci è mancato un po' di qualità e di convinzione per creare le nostre opportunità. ha detto che questo è un punto che fa morale da continuità per quanto riguarda il nostro percorso. Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Adesso ci aspetta un'altra partita, anche da un punto di vista psicologico, il derby altrettanto impegnativa e quindi dobbiamo recuperare le energie, ma continuare su questa strada. Siamo venuti qui considerando che non era semplice, ma i ragazzi sono stati veramente bravi perché hanno messo in una partita molto impegnativa, intensità, applicazione tattica, voglia, ambizione. Dobbiamo continuare su questa strada perché sta pagando e credo che poi alla fine pagherà. Il campo di Alessandra contro la Juve, oggi contro il Perugia, sono due punti che mi tengo stretti perché sono fondamentali per il nostro primo obiettivo e il nostro percorso. La ginnastica Riccione Academy debutta in A1 con un settimo posto. Subito un ottimo risultato quindi nella prima prova del 2024 a Montichiari per le atlete della Perla Verde. Vediamo. Scatta il campionato di Serie A1 di ginnastica artistica femminile che vede per la prima volta nella sua storia al Via la ginnastica Riccione Academy. La prima tappa è a Montichiari in provincia di Brescia, in un palasporto tutto esaurito, con oltre 3.800 persone sulle tribune. Per il club guidato dal presidente Francesco Poesio, gareggiano la capitana Adriana Poesio, Rebecca Aiello, Arianna Aurilio, Aurora Pilolla, Sara Camba e la nazionale ungherese Zoya Zeccheli. Nonostante l'emozione del debutto e qualche errore, comunque da mettere in preventivo, il team riccionese porta a casa un sorprendente settimo posto con un punteggio di 148.700, a pochi decimi da quello che sarebbe stato un clamoroso sesto posto. Buona, anzi ottima, la prima quindi per la ginnastica Riccione Academy. La seconda tappa è in calendario tra tre settimane ad Ancona. Successo per la prima di due domeniche di fila dedicate alla promozione di baseball e softball per i più giovani nel villaggio allestito nella piazza dell'acqua al ponte di Tiberio. Vediamo com'è andata. Due domeniche dedicate ad uno sport che a Rimini ha scritto pagine importanti della storia ammirando uno dei simboli della città, il ponte di Tiberio. Baseball al centro è l'iniziativa pensata e realizzata dalla società Junior Rimini in collaborazione con New Rimini per promuovere la pratica di baseball e softball proponendo a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni di entrare come in un film di due tempi. Il primo oggi, con il primo ciacca alle 11, quando il villaggio in piazza dell'acqua è stato inaugurato alla presenza dell'assessore del comune di Rimini, Mattia Morolli. Il secondo domenica prossimo, 11 febbraio, e coinciderà con i festeggiamenti per il Carnevale 2024. Abbiamo creato un'area di battuta, un'area di lancio e un'area dimostrativa in cui i nostri ragazzi praticamente fanno attività di baseball. quindi diciamo che noi siamo nel Marecchia un po' più in su, due o tre chilometri più in su, siamo venuti verso il centro. La nostra volontà è quella di riuscire a fare quindi un'attività per i bambini più piccoli, aperta dai bambini dai 6 anni fino ai 14 anni e quindi tutti possono cimentarsi in questa attività e riuscire magari quando sono più grandi a poter giocare nella squadra che attualmente milita nella Serie A. Magari riusciamo a fare un po' di pubblicità su questo gioco che è il più titolato della provincia di Rimini alla fine perché 13 scudetti, 3 coppie dei campioni, insomma nessuno sport cittadino e provinciale ha vinto così tanti titoli. Quella di oggi è una felice intuizione, portare uno sport come il baseball che è nel DNA di Rimini, la storia del baseball, i risultati del baseball, quello che è uno sport che fa parte della storia sportiva di questa comunità e di questa città in uno dei luoghi più definenti che è questo parco. Qualsiasi sport in questa città trova a casa, trova la possibilità di fare attività a livello professionistico, direttantistico e la possibilità di formare. Qui c'è scritto New Rimini, quindi l'idea del nuovo. Bene, invece il baseball ha talmente radici così forti a Rimini che i suoi rami verso il futuro saranno i più forti possibili. Grazie per quello che fate, grazie per come lo fate. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma Icaro Play, dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata. TG. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.